un'altra delle squadre assolutamente da battere, lo sono e l'hanno dimostrato veramente fino all'ultima domanda i full dancing! Come va ragazzi? Tutto a posto, è stato un po' difficile è stato un po' difficile, però un po' difficile, però un po' difficile questi ragazzi sono arrivati primi nella manche scientifica poi sono arrivati primi nell'over the top e quarti nella finale insomma direi che ci si può accontentare assolutamente sì, è andata benissimo così c'è anche qualcos'altro, ma ci accontentiamo diciamo che insomma la modestia fa parte come ve l'aspettavate questo Dr. Why Show? Impressioni? beh, è stato forse un po' più breve delle vecchie maratone però molto bello, mi piace il fatto che ci saranno altre serate vediamo se potremo partecipare bene, noi ce la curiamo perché con squadre come i full dancing insomma il divertimento è assicurato, ma soprattutto la loro bravura la tua domanda, proprio quella che non ti è andata giù quella che avete sbagliato oddio, quella di Miss Italia Lucia Bosè, Lucia Bosè lo vedi? eh vabbè ragazzi, questo è Dr. Why vedi quando uno è sicuro poi non ci azzecca mai questi sono i full dancing complimenti ragazzi davvero grazie a tutti 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 grazie a tutti